Dottoressa Faglioni, l'ATL presenta un nuovo sito, uno strumento sempre più importante anche per gli enti e le amministrazioni. Di che cosa si tratta questo progetto? Diciamo che noi avevamo già un sito molto bello, molto interessante ed era già stato valutato come uno dei migliori siti dell'ATL del Piemonte da uno studio che aveva fatto l'Università di Torino. Noi l'abbiamo modificato, l'abbiamo ampliato e l'abbiamo rivisto. Abbiamo adottato con questo nuovo sito tutti i sistemi di usabilità moderni anche per le persone che sono in difficoltà. Ad esempio c'è l'usabilità per gli ipovedenti, insomma è un sito veramente innovativo ma fa parte di un progetto più ampio che si chiama Piemonte 6 a casa perché vogliamo offrire con questo nuovo sito la possibilità di migliorare l'accoglienza e la valorizzazione del nostro territorio. È un sito che si presenta in cinque lingue con diverse sezioni e le sezioni appunto sono molto ampie, fra i quali l'ospitalità, l'accoglienza, natura, arte, architettura, cosa mangio, cosa compro, cosa vedo. Insomma diciamo che abbiamo tutte le particolarità per migliorare sempre di più l'offerta turistica di Novara e del Novarese.